Non ci possiamo ancora credere, ma è così. Roberto D'Amino, alias Ariel Fantasia, è sui nostri schermi. Scimmiottava a scuola il suo idolo preferito, Giovanotti. All'età di 7 anni partecipa allo Zecchino d'Oro. Porta il freestyle on the road al centro artigianato di Capri con gare a colpe di rime tra due rapper. Fonda insieme ai suoi amici il gruppo Zona X. Dalla sua passione per la vita notturna è riuscito a sviluppare notevoli doti di animatore e trascinatore di folle. Ed è qui che ha iniziato la sua apprezzatissima carriera di vocalist. Federe al suo microfono, ha diretto artisticamente per un anno il nightlife di discoteche come l'Underground e il Calambe. È stato speaker a Radio Capri 107 ed ex inviato dello Sleality Show. Ama conoscere nuova gente, distratto, disordinato, egocentrico, difettoso al massimo. Dichiara la sua dipendenza dalla droga più potente al mondo. Le donne e femmina.